Buongiorno da Lido, tornato dopo un meritato periodo di riposo e di vacanze, torno quindi in postazione per registrare questo podcast che cerca un po' di tenere voi e tenere anche me aggiornati al passo con le notizie, i trend del mercato IT, del mondo IT, quindi si parla di tecnologia, di programmazioni, di open source, di cloud, insomma tutto quello di cui siamo appassionati che probabilmente è anche il nostro lavoro. Oggi siccome è passato un po' di tempo vorrei fare un recappone di alcune delle cose diciamo più importanti da conoscere, più interessanti di quest'estate, di questo mese in cui non ci siamo sentiti così per rimetterci un po' in pari. Non sono naturalmente tutte le notizie, anzi sicuramente salterò qualcosa di anche importante, però sono quelle che io mi sono segnato e che mi hanno colpito di più, quindi bando alle ciance e partiamo subito con il recappone delle news estive. Non potevamo non partire con il signor Elon Musk che definitivamente, ufficialmente ha cambiato il nome di Twitter che oggi è diventato ufficialmente X, oggi insomma da qualche tempo è ufficialmente diventato X, sta anche cambiando tutti i loghi, togliendo tutti i riferimenti agli uccellini, ai tweet, sta cambiando tutte le parole in tutte le traduzioni, insomma un processo di cambiamento totale che lo porterà quindi da Twitter alla sua mitologica creatura che è X. Quindi ho scelto un articolo di The Verge per diciamo così fare la summa dei punti più importanti, però mi sono segnato anche alcune cose. C'è stata naturalmente la grande sfida, no? Musk ha sfidato Zuckerberg a un combattimento di MMA, però poi si è tirato indietro, ha inventato delle scuse e ha cambiato anche varie volte le condizioni di questo match. Peraltro il 14 agosto ha scritto un tweet dove avrebbe chiesto a Tesla, quindi a una Tesla guida autonoma, di guidare fino alla casa di Zuckerberg e di voler fare live streaming dell'intero percorso in tempo reale per poi suonare a casa di Zuckerberg e fare pratica a casa sua. Naturalmente a questo punto Zuckerberg ha detto che Musk non è serio e quindi ha chiesto di dimenticare tutto e smettere di parlarne. Non solo, poi X ha apparentemente cancellato migliaia di foto e link dal suo social network rendendo impossibile recuperare alcuni vecchi post, i post più vecchi del 2014. E questo problema sembrava essere dovuto a un bug nel dominio di accorciamento di quello che era Twitter, t.co, che ha smesso di funzionare per i post pubblicati prima appunto del dicembre 2014. Ma adesso, in questo momento, il problema sembrerebbe essere stato risolto. Inizialmente, insomma, sembrava essere abbastanza serio e solo alcune immagini famose come il selfie, quello di Ellen DeGeneres agli Oscar 2014 e l'abbraccio di Barack Obama dopo la rielezione del 2012. Quelle erano state ripristinate, però si pensa manualmente, non automaticamente. Insomma, pare comunque che in questo momento la cosa sia rientrata. X ha anche annunciato che TweetDeck, che è quello strumento per gestire più account e monitorare più notizie, sarà disponibile soltanto per gli utenti che pagano un abbonamento mensile. Inoltre, X ha anche riattivato alcuni account neonazisti che erano stati sospesi da Twitter in precedenza, tra cui quello di Richard Spencer, che è uno dei leader dell'alt-right americana. Web Environment Integrity, o W-E-I, Way, è una proposta di API di Google per Chrome per consentire ai siti web di verificare l'autenticità del dispositivo e del software usati dagli utenti per accedere, per visitare le pagine, tramite un token firmato digitalmente da una terza parte. Qui ho scelto un articolo che trovate su Ars Tecnica che si chiama Google's Nightmare Web Integrity API wants a DRM, Gatekeeper for the Web. L'obiettivo dichiarato di Way è di prevenire le interazioni fasulle o illeciti sui siti web, come i bot, il phishing, il furto di account, insomma anche il cheating nei videogiochi e il traffico che è non umano, quindi generato da bot, sugli advertising. E questa proposta è stata fortemente criticata da diverse organizzazioni e da sviluppatori di browser che la considerano appunto, come poi trovate sull'articolo di Ars Tecnica, una forma di DRM, il DRM sarebbe il Digital Rights Management. Ecco, un DRM per siti web che potrebbe limitare la libertà e l'apertura del web. Ecco, alcune delle critiche mosse a Way sono queste. Darebbe troppo potere alle terze parti che rilasciano il token, che quindi potrebbero decidere quali browser e quali dispositivi sono affidabili e quali no, e quindi bloccare l'accesso a determinati siti web. Poi violerebbe la privacy degli utenti, perché rivelerebbe informazioni sensibili sul dispositivo e sul software da siti web che potrebbero poi usarle per scopi malefici o commerciali, cosiddetto fingerprinting. Oggi con il browser si possono avere alcune informazioni sui device degli utenti, ma sono limitate. Invece con questa API, con questo strumento, le informazioni raccolte sul device e sul software degli utenti sarebbero ancora più profonde. Poi sarebbe inutile o inefficace contro le minacce che proprio che vuole contrastare, visto che i token potrebbero comunque essere falsificati o aggirati da forme di attacco più sofisticate. E poi sarebbe un abuso di posizione dominante da parte di Google, che è l'azienda che ha proposto queste API e che controlla la maggior parte del mercato naturalmente con il suo browser Chrome. Comunque poi alcuni dei browser più popolari si sono opposti a Way e tra questi troviamo Mozilla Firefox, troviamo Vivaldi, che è un derivato praticamente di Opera, del browser Opera, e troviamo anche Brave. Ecco, anche la Free Software Foundation e l'Electronic Frontier Foundation hanno espresso la loro contrarietà all'API. In questo momento la proposta di Way non è stata ancora approvata da nessun organismo standardizzatore, come per esempio il V3C, il World Wide Web Consortium, e non è stata implementata in nessun browser. Però c'è un'iniziale implementazione in Chromium che potrebbe poi arrivare su Chrome. Passiamo a un sito che visitiamo poco spesso, che è ABC News, che contiene informazioni anche finanziarie, oltre che politiche e economiche, perché effettivamente dobbiamo parlare di un fatto che riguarda l'economia e la finanza, ma anche l'hardware. E parliamo di Intel, perché Intel ha rinunciato all'acquisizione di Tower Semiconductor, che è una società israeliana che produce chip analogici e misti, a causa dell'impossibilità di ottenere le approvazioni normative richieste, in particolare da parte della Cina. È stata la Cina che ha proprio praticamente bloccato questa acquisizione gigantesca. Infatti questa operazione era un'operazione da 5.4 miliardi di dollari, e faceva parte di questa strategia di Intel per entrare nel mercato delle fonderie, quindi fare concorrenza, per esempio, a TSMC, e poi offrire servizi di produzione di chip a terzi. Infatti Tower è uno dei principali produttori di chip analogici, e i chip analogici sono usati in settori come l'automotive, l'aerospaziale, la medicina e le telecomunicazioni. Intel quindi ha dovuto pagare una penale di 353 milioni di dollari a Tower Semiconductor per la mancata acquisizione, per la risoluzione di questo accordo. Ma il danno maggiore potrebbe essere quello reputazionale e competitivo, infatti Intel puntava molto su questa acquisizione. Intel potrebbe perdere una fetta importante del mercato e dover affrontare poi una maggiore concorrenza da parte di altri attori, come per esempio Samsung, Qualcomm e Nvidia. Intel comunque alla fine ha dichiarato di rispettare Tower Semiconductor e quindi di voler cercare altre opportunità di collaborazione in futuro. Sam Bankman-Fried, un nome che forse ricorderete, ne avevamo parlato sul fine dell'anno scorso, il fondatore, ex CEO di FTX, è stato arrestato e rimandato in carcere per aver tentato di influenzare i testimoni nel suo processo per frode. E qua prendo un articolo che potete trovare su Cointelegraph Italia che si intitola Sam Bankman-Fried in carcere, il giudice revoca la cauzione. Bankman-Fried è accusato di aver usato una VPN e l'App Signal per comunicare con alcuni ex dipendenti di FTX e di Alameda Research, che erano le due società collegate nel mondo delle criptovalute, e di averli convinti a mentire o a non cooperare con le autorità. Il giudice, quindi Lewis Kaplan, ha revocato la cauzione di 250 milioni di dollari a Bankman-Fried dopo aver concluso che avesse tentato di alterare le prove almeno due volte mentre era in libertà vigilata. Bankman-Fried è imputato di 12 capi di accusa, tra cui frode ai danni di clienti di FTX, riciclaggio di denaro, violazione delle norme sui mercati finanziari e donazioni illegali alle campagne politiche. È utile qui fare un ripassino della vicenda che ha portato al fallimento di FTX e all'incriminazione di Bankman-Fried. FTX era una piattaforma di scambio di criptovalute fondata nel 2019 dal nostro e si è trovata in una crisi di liquidità a causa del ritiro di miliardi di fondi da parte dei clienti spaventati dalle accuse che appunto ho elencato prima. FTX a quel punto ha tentato di vendere gran parte della sua attività operativa alla concorrente Binance, che aveva offerto 9,4 miliardi di dollari per l'acquisizione. Tuttavia quest'affare è poi saltato quando Binance ha fatto la due diligence sul bilancio di FTX e ha visto che presentava delle irregolarità. FTX a quel punto non è riuscito a trovare altri acquirenti o investitori disposti a salvarla e ha dichiarato banca rotta, questo era l'11 novembre 2022. Bankman-Fried si dichiara innocente e sostiene di essere vittima di una persecuzione politica da parte del governo statunitense. Se venisse condannato su tutti i capi d'accusa, Bankman-Fried rischia fino a 115 anni di prigione. Una notizia di cui si è parlato molto in questo ultimo mese è il cambio di licenze deciso da HashiCorp per i suoi prodotti open source, tra cui Terraform, Vault, Consul e Nomad e quindi di adottare la Business Source License, quindi BSL o più correttamente BUSL che è una licenza diciamo ibrida che combina un po' di elementi delle licenze open source ma soprattutto alcuni del software proprietario, quindi non è una licenza open come classificato insomma dalla Open Source Initiative. La BSL consente agli utenti di usare, modificare e distribuire il software liberamente ma impone delle restrizioni commerciali, in particolare la proibizione di offrire il software come un servizio, quindi un software as a service, un SaaS, senza pagare la licenza di HashiCorp, una licenza da HashiCorp. HashiCorp ha motivato il cambio della licenza con la necessità di proteggere il suo modello di business e di contrastare la concorrenza sleale da parte di grandi aziende cloud come Amazon, naturalmente come Microsoft e Google e queste offrono i prodotti di HashiCorp come servizi ai loro clienti senza contribuire allo sviluppo del software o al sostegno della comunità. Queste sono le parole di HashiCorp, però naturalmente questo cambio di licenza ha suscitato molte critiche e polemiche da parte degli appassionati e degli esperti di open source oltre che da tutti quelli che usano i prodotti di HashiCorp o anche li rivendono e questo è considerato una violazione dei principi fondamentali del software libero e un pericolo per l'innovazione e la collaborazione in questo settore. Alcuni hanno anche messo in dubbio la validità legale della BSL sostenendo che si tratta di una licenza proprietaria travestita da open source che potrebbe creare anche confusione tra gli utenti, incertezza tra gli utenti. Altri hanno anche accusato HashiCorp di essere ipocrita, di essere ingrata verso la comunità open source che ha contribuito al successo dei loro prodotti e che ora viene esclusa dal processo decisionale. Ricordiamo naturalmente che Terraform tra gli altri, Terraform probabilmente il prodotto più famoso nasce e viene costituito, si fonda su prodotti, su software libero, su software open source. Il cambio di licenza di HashiCorp segue quello di altre aziende del settore come MongoDB, Elastic e Redis Labs che hanno adottato la BSL o altre licenze simili negli ultimi anni per difendersi proprio dall'appropriazione dei loro prodotti da parte delle grandi aziende cloud. Questa tendenza potrebbe segnare la fine di un'era per il software libero che ora deve affrontare nuove sfide, nuovi dilemmi, nuovi problemi portati proprio dal mondo del cloud computing. E aggiungo su questo che sulla scia della preoccupazione per questo cambio di licenza soprattutto di un prodotto in particolare che è quello più noto e diffuso che è Terraform è nata quello che per ora è un manifesto ma che si propone di diventare qualcosa di più che si chiama OpenTF. Qui prendo ad esempio l'articolo di The Newstack che trovate su Newstack che si chiama OpenTF HashiCorp Rivals Threaten to Fork Terraform. Ed è proprio questo. C'è un fork di Terraform, cioè della versione subito prima del cambio di licenza che è ancora sotto una licenza open source che si può quindi forcare, continuare a utilizzare e distribuire. E questo manifesto di OpenTF vuole difendere i valori e i principi del software libero e propone di restituire Terraform a una licenza completamente open source come la MPL oppure un'altra licenza ben nota e ampiamente accettata come la Apache License 2.0 e questo manifesto chiede ad HashiCorp di riconsiderare la sua decisione evitando la frammentazione della community e invita anche tutti gli utenti i contributori, i clienti, i partner e anche i fornitori a sostenere questa causa e firmare il manifesto sul sito web o sul riposito di GitHub di OpenTF e chiude con un fallback plan cioè se le cose non dovesse andare bene se HashiCorp non dovesse ritornare sui propri passi ecco la creazione di una fondazione vera e propria che custodisca Terraforma in forma open source quindi sulla falsa riga della Linux Foundation o della CNCF Il 16 agosto abbiamo celebrato il trentesimo compleanno di Debian Debian ha trent'anni, potete sentirvi vecchi Debian era stato creato nel 1993 da Ian Mardock come distribuzione GNU Linux e poi ha dato il via a tantissime distribuzioni derivate come Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux ce ne sono innumerevoli ed è stato utilizzato, è tuttora utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo sia in ambito desktop che in ambito server proprio uno dei pilastri del mondo Linux e del mondo open source infatti si distingue per la sua filosofia basata sui principi del software libero in particolare su quelli proprio derivati da GNU e quindi da Richard Stallman per il suo modello di sviluppo democratico e collaborativo e Debian naturalmente ha organizzato diverse iniziative eventi in vari paesi per celebrare il suo trentesimo anniversario invitando tutti i partecipanti a condividere le proprie esperienze e opinioni peraltro se non lo sapete il nome Debian è un portmanteau una contrazione di due parole di due nomi in questo caso perché Debian è stato fondato appunto creato da Ian Mardock e la sua ragazza dell'epoca si chiamava Debra e quindi Deb è l'iniziale di Debra Ian è il nome di Ian e quindi Debian è derivato da lì e questo è? perché si chiama Debian? per questo in questo lasso di tempo in cui non ci siamo sentiti purtroppo il mondo informatico va anche dato l'addio a tre personaggi che in modi diversi hanno lasciato un'impronta un solco importante nelle vite professionali e non solo di molti di noi vado nell'ordine in cui le notizie sono arrivate quindi parto da Bram Molinar che è morto il 3 agosto all'età di 62 anni per una rapida malattia Molinar era il fondatore e principale sviluppatore di Vim che è l'editor di testo naturalmente derivato da V ovviamente molto noto e usato da migliaia di sviluppatori Molinar aveva creato Vim nel 1991 e lo aveva mantenuto fino a poche settimane prima della sua morte era anche il fondatore di ICCF Holland che è un'organizzazione non governativa che sostiene i bambini orfani a causa dell'AIDS in Uganda e proprio attraverso la popolarità di Vim incoraggiava le donazioni il 16 agosto ci ha lasciati invece Chris Nova è una sviluppatrice che lavorava in Github ed era un appassionata alpinista e morta purtroppo a seguito di un incidente durante una scalata aveva 36 anni Nova era nota per il suo lavoro sul software open source in particolare su Linux e su Kubernetes era un attivista per i diritti delle persone transgender e aveva contribuito a creare la Nivenly Foundation di cui era presidente una fondazione che promuove una governance sostenibile per i progetti open source e che mantiene tra l'altro Hachiderm che è una nota istanza mastodon dedicata ai professionisti IT Nova era anche l'autrice di Hacking Capitalism è un libro pubblicato autopubblicato nel 2022 in cui analizzava il mercato IT come un sistema complesso oltre che coautrice di Cloud Native Infrastructure pubblicato per Orilli la sua morte così improvvisa ha scosso profondamente molti colleghi e amici che le hanno lasciato molti tributi che potete trovare sui social network cito in particolare quello di Giobeda che è uno dei creatori originali di quello che oggi è Kubernetes in Google che ha scritto su Twitter cito era una persona straordinaria che viveva ad alta voce e creava legami e comunità ovunque andasse ci mancherà terribilmente pochi giorni fa invece è arrivata la notizia della morte di John Warnock che era stato il cofondatore di Adobe Systems che è morto il 19 agosto a 82 anni Warnock aveva fondato Adobe nel 1982 insieme a Charles Ghesche e il loro primo prodotto era stato Adobe PostScript che fu una tecnologia rivoluzionaria per la stampa da desktop e PostScript è proprio un linguaggio di programmazione che è diventato uno standard per descrivere pagine e immagini che poi naturalmente fu alla base di PDF e Warnock lo aveva creato nel 1976 quando lavorava per una compagnia di computer grafica che poi perfezionò in Xerox prima di uscirne e creare Adobe Warnock si ritirò da CEO di Adobe nel 2000 e fu presidente del consiglio di amministrazione fino al 2017 e membro del consiglio fino alla sua morte nel corso della sua carriera ha vinto numerosi riconoscimenti prestigiosi oltre che lauree ad honorem ed era un membro della National Academy of Engineering e dell'American Academy of Arts and Sciences chiudiamo invece con una notizia di cyber security arrivata a ferragosto c'è stato un attacco ransomware che ha colpito Postel che è una società di poste italiane che si occupa di gestione documentale qui cito un articolo del Post che si intitola è stato rivendicato un attacco informatico contro una società di poste italiane articolo del 16 agosto peraltro mi stavo per complimentare con il Post perché nel sottotitolo ha scritto un gruppo di criminali informatici quindi molto bene purtroppo però devo ritirare i complimenti perché l'articolo si apre con il gruppo di hacker quindi qui meno bene il Post attenzione attenzione le parole sono importanti quindi un gruppo di cyber criminali ecco chiamato Medusa Locker ha rivendicato l'attacco e ha chiesto un riscatto di 500.000 dollari per non pubblicare tutti i dati online come dimostrazione ha pubblicato un estratto dei dati sottratti e Christian Bernieri che è un esperto di cyber security che fa molta divulgazione online sul tema ha per primo notato e informato di questo fatto su Twitter o su X insomma e ha evidenziato che tra i dati raccolti ci sono moltissimi dati sensibili come documenti di identità corrispondenza interna riservata dati dell'ufficio del personale permessi sanzioni disciplinari eccetera eccetera Postel ha dichiarato di aver interrotto le attività produttive ed aver avviato verifiche e azioni di mitigazione ha dichiarato anche che al momento risultano essere interessati soltanto dati interni all'azienda ora mancano due giorni all'ultimatum di Medusa prima della pubblicazione dei dati integrali quindi se siete interessati a seguire come sta andando vi invito a seguire Bernieri sui suoi social o il blog Red Hot Cyber qui adesso vedete un stato dell'ultimo articolo su Postel questo blog sta trattando nel dettaglio la vicenda quindi una vicenda naturalmente molto importante e molto preoccupante io mi fermo qui spero sia stata gradita questa puntata di recappone delle notizie estive più importanti o più interessanti o almeno quelle che mi hanno colpito di più e che penso che avranno un eco nei prossimi mesi che quindi potremo seguire con la ripresa della programmazione diciamo così canonica di questo podcast che ogni giorno spero vi tenga informati sulle novità del mondo IT e a me stesso costringa ad andare a informarsi quotidianamente quindi grazie per avermi seguito fin qui e ci sentiamo alla prossima ciao